Tu sei l'assassino! No! Quel mattone era staccato! Guarda avanti, o attirerai l'attenzione. Grazie a Dio l'hai salvata. Io non c'entro. È stata fortunata. Io e lei... Prima eravamo amici. Ti piace quel barboncino da gara? Già. Perché eri su quella torre? È un progetto d'arte. Per quando si scioglierà la neve. Ciao, io sono Raúl. Non faccio amicizia, Raúl. Succedono cose brutte alle persone che mi sono vicine. Tipo cosa? Muoiono. Wow.